musica 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 Ma cazzo, ma le frecce allora si rompono un po'? Eh, ma dai. Ma che cazzata. Ti ho detto, cambia arma, togli quel cazzo di arco. Cambiamo questo cazzo di arco e prendiamo sto cazzo di fucito. Eh, intanto, e dopo... Bene, 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 bene. Oh, per palo, ma qui ce ne sono? Cioè, come se ci sia l'invasione dei zombie, non è che ce ne sono due. Per un palo? Grazie per averci salvato. Ha capito che è in fretta. No, non sa. Guarda. Non è così. Ha capito, ha visto che... No, stai zitto, non è così. È lui che si coprano in fretta. Va sotto, stronza. Hai finito? Si, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fanno? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare sognendomi questi. Io devo a Joel dei favori. Cos'è? Uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto. Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo Joel, fai pure. Prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, giacché ci sei. Beh, un po' di cibo in maniera. Non grazie per l'auto. Questo vuoi per l'auto, io veramente. Sono fanculo, mi hai ammanettato. Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Ma non importa perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Ma questo qui è un cazzotto, però. Ti ricordi che nell'altro video dicevano... Aspetta un attimo. Dicevano, è uno di quelli che sta da solo, non si fida di nessuno. Ti suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Guarda se c'è qualcosa di utile. Che io sono orbo e non riesco a vedere. Oh, cos'è una mappa? Una mazza. No, finalmente sapremo dove andare. Mappa di Bill. No, preferisco la mazza da baseball, Mimmi. Questa è più forte, dura di più. No, meglio la mazza. Ma cosa stai dicendo? Faio di forbici. Colpi. Biglietto per le recinzioni. Quindi possiamo vedere anche dove, diciamo, ha nascosto le trappole. Da sentire a fare le missioni con lui. Prendi quel tubo di ferro. Non mi piace il tubo di ferro. Preferisco le mazze. Eh, tu prefer... Dio mio. Preferisci farti saltare. Ha detto, prendete tutto quello che avete bisogno. Praticamente gli sto prendendo tutto, gli sto svaliggiando la casa. Giustissimo. Ah, che te l'ho potenziato. Cosa dovrei capire da questo? Oh, gira. Scusi, manuale di addestramento. Vedi? Ah, ho capito. Gira. Triangolo. Leggi. Cinque. Ma magari adesso puoi andare a potenziare... Ma cos'è sta roba? Ah, 30p. Distanza, modalità, ascolto. Velocità, fabbricazione. Velocità di cura. Beh, questo direi che va bene. Aumentiamo un po' la velocità di cura. Ecco. Adesso andiamo a fabbricazione. Ecco, facciamo un'ascia. Bene. Facciamo un coltello. Con un tri-clicker. Facciamo anche un kit medico. Perché non te ne servono. Ancora un altro. Ancora un altro, perfetto. Ancora un altro, grazie. Perfetto. Bene. Vaffanculo del Molotov. Via, spostati. Che stronzo che sei. Guarda a sinistra. Quella è destra, comunque. Non munizioni al massimo. Ho avuto tutto. Pronti. Pronti, partenza, via. Si va a fermare, pronti. Usa la pistola. La pistola, hai dodici colpi. Vaffanculo. Cosa? Prefersi usare il fucilazzo. La porta aperta o no? Secondo me, secondo me, è uno di quelli cazzuti. Però non mi cerca da proprio una butterfina. Sì, è un tipo originale. Allora, in che guaio ti sei cacciato. Dov'è te? Dov'è te? Hai sentito che si senta diverso. Una semplice consegna. Cosa consegni? È quella mocciosa. Fa ancora anche a te. Sì, ma la bambina lì è... Eh, ma te sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tipo. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo... Dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare... Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Chiaro. Non so quante merda di infetti ci sono. Qua non c'è niente. Perfetto. Ce n'è uno dentro. È da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su te. Ma... Pensavo foste inseparabili. Ma che cazzo è incastrato tipo? Sì, certo occupata. Ah, la trappola. Mi sembra che... Ci siano... Problemi, imparatizio. Qualcosa del genere. Ma che è male? No, ma stai lasciando tu le tracce di sangue? Oh, vediamo. No. No. Oh, disto della luce. Allora questo? Dov'è? Allora... Perché non aggiusti una di queste auto? Prendi quella roba di per terra. Le forbici. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Perca puttana. Infatti! Madonna. Ssshh! E le tre! E le tre! Vaffanculo anche la mia mira. E ricarica, ricarica, ricarica. Da questa parte! Aiuto! Una mano! Perci la forma, ti sa. Vabbè, vaffanculo. Oh, brava bambina, stupida. Sì, adesso arrivo. No! Vai tranquillo, che ci sono io qua. Ok! Ricarica la pistola. Ricarica... È lenta a sparare, cazzo! È tutto lento, in sto gioco. C'è qualcosa per dare? È un mattone. Bill! Joel! Da questa parte. Ma chi è Bill? Io? Cioè, lui? E si sale. Via, via, via! Che dici, chiudiamo magari velocemente? Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici... Ma questo è il suo rifuto, diciamo. Cazzo, è un castello? Che cosa intendi? Niente. Quel cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. Non riesco a non sfondarlo? Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Ah, perfetto. L'apro io, Bill. Sì, non so dove sto andando, ma non importa. Adesso viene... Che ne sai tu, di un campo di grano? Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Ma è un po' impazzita. Va bene, intanto non so ciopatico, è normale. Prepariamoci. Cosa? Mi serve un'arma? No. No, non ti serve. Cioè, beh. So badare. Ma io gliela darei. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa a testa ad approvare una missione suicida? Beh, una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. No. Sto parlando di una morta. Non lo so. Non posso riportarla ai Buster. Allora mollala e lascia che se la capi da sola. No. Ti racconto una storia. Beh, non mi piace come le chiamo. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Ed è morto. Una persona. Mi ho sparato io. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no. Non è proprio così. Cazzate. È esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca merda. Fai la babysitter abbastanza lungo e prima o poi ti cagano in fece. Bill. Per favore, ci diamo una mossa. Che fucilazzo ha lei, oh. Fucile normale, scusami. Ma sto qui per me li apre in due i clicker. Non è una minigun? La ricattata da qualche parte. Chi non ha minigun? Nuova arma, fucilazzo a pompa. Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Girati e guarda cosa è sta merda di giocattolo nuovo. È una bomba di chiodi. È una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavodetti. Lei ha anche provato su di te? Sì, non ha fatto un gran che però, effettivamente. Puoi usare la scappa offensiva o difensiva lasciandola con una parabola o dar con le due o piazzandola in una posizione strategica con un R2. Scusami, perché detto R2 e R2? Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una caravana militare che ha attraverso la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorti. Se vessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Oh, stai rendendo. Miamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Fondine per arma. Quindi abbiamo usato la velocità di fuoco e la velocità di carica. Noi abbiamo 17 cose e basta. Velocità di carica. Qua possiamo aumentare invece la velocità di fuoco, la capacità di carica e il rinculo. Sì, ma ti mancano gli attrezzi, quindi non puoi farlo lo stesso. Tra l'altro posso fare un cazzo. No, solo la pistola. La pistola. Questa qua, la velocità di ricarica. Dai, aumentiamo. Dai, via. Bene, finito. Ecco. Wow. Ora sì che si ragione. Eh, beh, cazzo. Eh, i nostri problemi si sono risolvoli. Guarda che c'è altre cose. Sì, ho visto, ho visto. Ehm, è pieno di roba qua. Attrezzi livello 1 acquisiti. Eh, torniamo lì allora. Vedersi che puoi fare qualcosa. Prendendo non puoi far più un amico. Beh. Dai, su. Lavoriamo sodo. Eh, un attrezzo, basta. Oh, cazzo. Non esagerare. Però dai, è di nuovo 17. No, buono. Aspetta piuttosto. Modifico più avanti qualcos'altro. Andiamo avanti, va là. Che ora è? Prendi l'acqua. Prendi l'acqua. 14 minuti. Dei andare lì. Eccoci qua. Creiamo qualcosa. Allora, andiamo via. Ah, fregamente qui li metti di volta in volta le forbici su. Esatto. Durò un colpo, sta merda. Bene, è fatto. Sono pronto, boss. Andiamo. Non c'è niente. Sì, cambia quello che hai in mano. Non ti fidi? No. Perché ti conosco. Quella Ellie, giusta. Non guardare. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda. Fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio. Come un ferro. Ho proprio una scoppa in culo. Eh? Ma non hai letto? No. Stavo pensando ai cazzi miei, come tutto il tempo. Ah, interessante. Qua non c'è un cazzo. È una chiesa, che cosa? Wow. Bel posticino qui. Insomma. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Ho uncciso tanti zombie. Dieci padri nostri. Ok. È ora di fare i bagagli. Ma per la finestra usciamo? Ma una porta non ce l'hai? Boh. Magari stando sopra, magari avete di andare. Dove ci sono i click? Oh, vai via. E lì, andiamo. Dobbiamo andare di là noi. Aspetta. Ecco. Là alla scuola. Ok. Pronti? Partenza. Siamo in un cimitero, benone. Ma... Forza, dai, tu non guardarli. Ma sono zombie. O persone non male. Non è grande però, eh. Ah. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Ehi. Silenzio. No. Sì. Un clicker. Clicker. E un altro clicker. Due. Perchè non se ne va quello stronzo? Toh. Clicker di merda. Oh mio Dio. Ancora due coltelli. Di qua non c'è nessuno. Quindi ci sono un clicker. No, ce ne sono due. Ci sono un altro di dopo a destra. Dopo di qua e giù a destra. In particolare non c'è. Un mattone. Aspetta che lo prendo, eh. Lasciatemi il mattone. Non, 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 non capilare così che ti sente. Tiralo là in fondo. L'è in fondo. Ma quanti cazzo ce ne sono? Un mattone sui piedi. Guarda che non ce ne siano altri qua. Usa l'udito. Madonna. Questa è una mazza già pronta per uccidere. No, no. Lasci stare, non devi usarla. No. Non andiamo super la scala in teoria, giusto? No, dovrei andare giù di là. Dici? Sì, perché la scuola è da quella parte, quindi. Ma tanto, in questo gioco succede quello che fai tu, non quello che fanno gli altri. Gli altri possono anche mettersi a cagarli in mezzo, tanto non... Sì, è sicuro che non arriva, sì. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Sì, è... Apri là. Vai via! Piano. Piano. Boh, ma sono sfigati sti qui. Boh, non tiragli la bottiglia ancora qui in là, magari li distrai, li porchi d'antano. Eeeh, è una bottiglia! Boh, dritta in quella porta lei. Ma se va davanti di qua non è meglio. No! Si ammazza coli. Vabbè, ammazza. Non con la coltellata, però. No, lo strangolo. Questo lo strangolo, perché tanto il coltello non lo uso. Eccoci qua. Fai silenzio, un po' il piacere, grazie. Va avanti. Usiamo il super coso. Ma non c'è niente. Pazzo! Non c'era niente, non c'era niente. Lo faccio tranquillo. Oh, cose. Qua bisogna assolutamente prendere le robe. Ho trovato una chiave di ingranaggio, perfetta. Posso potenziarmi sicuramente niente, però l'ho trovata. Quello è un clicker, quello è un zoom normale. Ah, andiamo di qua. Dove ci sembra zomini. No, vedi qua. Si, appunto, lo di qua. Se si può andare avanti. No. Vaffanculo ad andare di qua. Dove è il clicker? Dove dice che? No, ma era di là, di là. No, non è un zoom normale. No, non è un zoom normale. Due normali. Entra qui. Guarda che prendo la bottiglia che non si sa mai. Devo far casino. Vai là sul coso. Comunque, c'è roba. Arco. Frecce. Perfetto. Cambia arma. Arma. Prende una bottiglia e gliela lancio addosso a qualcuno. Beh, andiamo di qua. Dove cazzo devo andare adesso? Eh, guarda in alto. Sai che c'è la scritta della scuola? Ok, dietro la palizzata di qua ci sono le rizzonte. Terle in fondo, in fondo, là. Oh, una bottiglia! Con calma. Qua non puoi sentarare. È un clicker. Questi, ti vedono. Buota, buota la mia carina. Sì, ho buttato via. Comunque. Mi sparo il slidotto il coso. Smasalo. Io non capisco come si usa questo cazzo di acqua. Quindi, cambiala. Vaffanculo. Ancora? Coltelli, via coltelli. Fai sto coltello. Ti fidi di me adesso? Cambia arma subito. Fuzzi la pompa. Tieni la pistola. Ho paura. Guarda che c'è una mazza strana. Dove devo andare? Se capisci dove devo andare... Allora, fermati un attimo. Alzati in piedi. Fermo. Fermo. Girati. Gira, gira. Gira solo la testa, per cortesia. Aspetta. Ma la scuola è di là? Fermati un attimo. Fermo. Hai una cartina dentro lo zaino. Apre lo zaino. Adesso apro lo zaino. Torniamo indietro. Passiamo attraverso quei cortili. Torniamo indietro. L'hai visto? Sì. Bene. È una zombie normale? No. Clicker. Prendi un mattone. Prendi una bottiglia. Prendi qualcosa. Ah, là dentro? Beh, è un zombie normale. Clicker, benona. Ma guarda, ho dovuto là. Andate. C'è una bottiglia per voi. Quello ti vede. Ma no. Ma come ha fatto vedere? Chi ha ragione? Come ha fatto vedermi? Allora, il clicker non ti può vedere. Ti sente e basta. Hai fatto casino vicino. E' normale che sia. Quegli altri invece hanno ancora gli occhi. Tranquilo. Sì, come veri uomini, dai. Questi qua sono scarci, dai. Tranquillo. Hai pochissimi colpi di quest'arma. Mi basteranno. Boh, ascolta. Quello che c'è dentro la casa. Tu quando c'hai solto all'ascolto. Ma no, ma roba di merda. Cazzo che paura che ho preso. Non c'è niente. Cosa è su pro dita? Boh, perfetto. C'è qualcosa in quella stanza lì. Cosa? Una bottiglia? Una scatola di cereali. Bende. Ma che cazzo? Ah, scusami, puoi fare quello che ti ho detto io? La mappa? Cos'è? Ma vuoi dargli cazzo o devo far tutto io? Porca di quella troia. Adesso tira fuori la mappa. Ah, piastrine, manuali. Non vi ho una mappa prima. Mappa percorsi, pattuglia, biglietto, mappa di Bill. Sì, è molto chiara. Che odia. Dove siamo noi? Ma vaffanculo. Non faccio niente ai ringhi, ho un mazzo zombie. Non tornare qui dove ci sono tutti quanti, eh. No, 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 non torno lì. Vado avanti di qua. Di qua non si può. Forse qua a sinistra ci sarà una strada. Cosa? Oh mio Dio, cosa? Boh. Vado avanti di qua allora, dai. Eccola lì. Ma non siamo già stati di qua. Non, giù di qua. Perfetto, abbiamo trovato la strada. Forse. No, senza forse. Questa parte. È bloccata dall'altra parte. Eh, mappa. Se passassimo di lì... Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Figurate se sto a pensare. Vai di là e apri la porta. Avresti dovuto darle una pistola? Ok, Bill. Oh, ma comunque che cazzo di cane deve passare da quella botola lì? Merda. Clicca. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Mattone. Perfetto il mattone. La botola là verso la... Devo entrare, giusto? Sì. Aspetta un attimo, eh. Con calma. No, più in fondo, più in fondo, più in fondo. No. Quello lì è sopra il tavolino? Guarda che mossa. Certo, lui non lo vede, no? Bambò. Oh, cazzo. Tu vai il tuo qua, Bill. Sì, sì. Lui dorme lì. Oh, munizioni per il fucile. Questo non è un clicker, vero? Sì, è un clicker. Però mi servono le munizioni. Eh, beh, lì lo uccidi, tanto hai un coltello. No, no. Non voglio sprecare. Ciao. 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 Che paura. Ma stai zitto? Dovremmo essere al sicuro, dai. Ok. Una casa sull'albero? Ma che stupidi. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa cassa. Entriamo. Mandiamo, Ellie. Con l'altro in un cassetto ci sono dei colpi. Quante frecce. Bene, bene, bene. Frecce, mazze da baseball. Abbiamo la mano con questo. Bene, ragazzi. Affiniamo qui il video. Ripartiremo da questo portone del casto. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.